Il prossimo pezzo parla di potere e del concetto di verità perché è bizzarro eppure una delle più impressionanti forme del potere è quella della detenzione della verità chi ha il potere stabilisce cosa è vero e cosa è falso non sanno che sento di volta la loro parte e la loro guarda nel palco del vento di latte e vento non sanno che sento di volta la loro parte come figli ad armate nel campo a volto in un caglio di sacco non sanno che la loro guarda uscire so che la sua terra ha rispargato la loro parte a una donna che separa il campo al vostro non sanno che la loro guarda uscire so che faccia questa guerra e che questa nuova violenza la loro faccia la loro guerra come figli ad un palco del vento non sanno che la loro pazcia la loro guerra come figli ad armate come figli ad armate con rose La guerra cresce dalla loro parte, come il figlio della madre, che fa il campo rosso, nel lago di San Juan. La loro parte è una guerra che prepara il campo al massacro, che sta in alto di sé, la loro parte è una guerra. La loro parte è una guerra, che sta in alto di sé, la loro parte è una guerra. La loro parte è una guerra, che sta in alto di sé, la loro parte è una guerra. La loro parte è una guerra, che sta in alto di sé, la loro parte è una guerra. Che graziosi che siete, siete proprio graziosi. E quindi, visto che questa è la nostra natività, il festeggiamento del nostro Natale, che sia una festa e che sia una danza. Grazie! 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 Buongiorno! Vai Marshall, buongiorno! Buongiorno! E non c'è festività senza canzoni natalizie e soprattutto senza birra. Mi sembra che su questo tasto non ci si possa addentrare Comunque non c'è una festività senza una canzone legata alla festività come può essere Jingle Bell Il prossimo pezzo è l'equivalente di Jingle Bell del disagio, dell'orrore di una vita quotidiana Buon Natale di merda a tutti quanti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti